Ciao a tutti amici di esperienza mobile, siamo in compagnia di Huawei G7 e Huawei G8 per un rapido confronto prima di cominciare vi lasciamo un bel pollice in su per il video, condividerlo e iscrivervi in tanti al canale youtube di esperienza mobile vi starete chiedendo perchè ho la mano sul telefono, il che è presto detto perchè se il modulo G8 vedete che prende vita e comincia a vagare per il tavolo vi assicuro che il tavolo sarà in pendenza di un grado, eppure il G8 ha un display così liscio, così stondato e perfetto che voilà si potrebbe benissimo lanciare e giocare a quel gioco che di solito vediamo in sala giochi con la piastra comunque da parte le battute, i telefoni sono già accesi, il G7 praticamente non ha nulla dentro perchè me l'ha prestato un euro per il confronto il modulo G8 invece è quello che ho usato in questo paio di giorni cominciamo subito con un rapido confronto, vabbè, di dimensioni e design c'è poco a dire, le dimensioni sono praticamente identiche come vedete anzi identiche direi ecco, mentre anche lo spessore è praticamente lo stesso ve lo giro, scusatemi cambiano un po' vedete gli ingressi per le sim, i vari gelot, gli altoparlanti però il concetto è quello la posizione fotocamera è cambiata qua abbiamo sempre entrambi da 13 megapixel con un solo flash led e doppio flash led qua è al centro, qua è spostato l'altoparlante è qua in basso per il G7 mentre è qua sotto per il G8 posizione più intelligente e su G8 abbiamo il sensore per le impronte digitali che funziona anche molto bene quindi aggiunta diciamo più notevole ecco, è questa entrambi hanno due fasce sinceramente preferisco quelle del G7 come design rispetto a queste due che non mi fanno impazzire due fasce per le antenne preferisco queste qua vecchie del G7 per il resto nulla di diverso parliamo rapidamente di schede tecniche che va da memoria perché non le ho consultate ma ho una buona memoria quindi dovrei farcela allora, per quanto riguarda il display abbiamo un 5 pollici e mezzo per entrambi i dispositivi qua abbiamo un display HD qua abbiamo un display full HD quindi altro passo in avanti di Huawei sul display 401 pixel per pollice contro il 270 circa dps entrambi abbiamo processori Snapdragon 410 quad core da 1.2 GHz a 64 bit contro Snapdragon 616 octa core a 64 bit quindi decisamente più prestante il nuovo processore GPU Adreno 405 contro GPU Adreno 306 abbiamo 2 GB di RAM sul G7 e 3 GB di RAM sul G8 e il resto è un'altra novità 16 GB di memoria espandibili sul G7 contro 32 espandibili sul G8 a meno che non vogliate utilizzarlo con due SIM in quel caso non è espandibile però comunque avete 32 GB quindi in ogni caso soluzioni più interessanti sul G8 entrambi hanno il 4G entrambi hanno batteria da 3.000 mAh non rimovibile e entrambi hanno fotocamera da 13 megapixel e 5 megapixel sulla parte frontale quindi sul G8 hanno fatto un bel miglioramento il design non è cambiato tanto il display è anche un po' curvo sui lati stondato veramente bello dicevo come design c'è stato un piccolo miglioramento mentre come scheda tecnica insomma abbiamo migliorato display display scusatemi sensori per lembroni digitali processore RAM e memoria interna per di più e anche dual sim quindi sicuramente sono delle modifiche delle migliorie che per molti potrebbero essere importanti nella scelta fra questi due dispositivi perché ricordiamo che nonostante il G7 sia uscito da un anno è ancora abbastanza attuale poi si trova prezzi molto interessanti che fanno di lui un ottimo telefono da rapporto qualità un telefono dell'ottimo rapporto qualità prezzo scusate ok vediamo rapidamente l'interfacce leggermente diverse qua dovrebbe essere uscito un aggiornamento che lo porta ad essere più simile al fratello maggiore diciamo infatti vedete l'update non l'ho fatto ma ci riteniamo così qua vedete le specifiche quelle che ho detto io prima infatti andrò di 5.1 e 4.4 però ripeto che dovrebbe essere riuscito l'aggiornamento a 5.1 anche per il G7 quindi andate tranquilli da questo punto di vista approfitto qua per farvi mostrarvi forse non si nota che anzi non si nota sicuramente io che sono un po' più di sbiego vedo i bianchi del G8 più verso tendenti a rosa questi li vedo più bianchi mentre se li tiro su perpendicolari i bianchi sono migliori sul G8 quindi perpendicolarmente bianchi migliori ma di sbiego questi tendono un po' al rosa usciamo anche la text sotto il vetro nella parte frontale è identica la fluidità è molto buona su entrambi i dispositivi vedete che l'interfaccia non è cambiata più di tanto qua si possono modificare i temi come anche sul G7 d'altronde scorciatori drogo rapidi luminosità automatica per entrambi ripeto veramente abbiamo funzioni pressoché identiche sfondi widget transazioni vedete nulla di chissà che diverso ok vediamo le fotocamere apriamo apertura pressoché identica anche l'interfaccia non cambia più di tanto vedete più o meno come velocità di apertura mi sembra addirittura un po' più veloce del G7 siamo lì in realtà qua abbiamo dei fit su entrambi su entrambi i dispositivi insomma poco altro andiamo a vedere qualche foto che ho scattato non le ho fatte uguali come vedete non abbiamo grosse differenze a livello di definizione anzi questa foto per esempio è venuta addirittura meglio sul G7 vi assicuro che sono molto molto simili 13 megapixel su entrambi i dispositivi qua anche vediamo che i mattoni sono identici come definizione cambiano un po' i colori ma insomma foto al buio ecco migliorato sicuramente al buio abbiamo più rumori video sul G7 quindi foto si paragonabili assolutamente anche i selfie sono più o meno quelli 5 megapixel non ho notato grandi differenze quindi a livello fotocamera da direi un pareggio è un po' cambiato il software ma penso sia arrivato anche sul G7 solità buona solità mi ripeto pochi lag andiamo a vedere velocemente i i video quindi su menu scusate vediamo se li trovo ok qua non vedo il video il video di test no impossibile riprodurlo vabbè allora vediamo questo torniamo un po' al passato con questo vecchio video il primo che ho usato per le mie recensioni ecco allora cosa dire come riproduzione nessun problema su entrambi i dispositivi luminosità massima è paragonabile a definizione sicuramente più alta sul G8 come ho già detto colori leggermente diversi un po' più sparati un po' più saturi sul G8 e anche gli angoli di visione a parte i bianchi come ho detto prima che sono migliori secondo me sul G7 di sbieco come angoli di visione migliori sul G8 anche i anche come i flessi siamo un pelino meglio il G8 non so se vedete la videocamera un po' di più i colori ma rimane comunque un buon display sicuramente il G8 ha fatto un buon passo in avanti da questo punto di vista usciamo andiamo a vedere boh sulla musica non c'è molto a dirlo ho già provati prima vi dico la verità e vi posso dire che il volume paragonabile e anche la qualità è migliore sicuramente la posizione dell'altoparlante che è in basso per il G8 e non viene attutito se appoggiato su superfici morbide come giochi e benchmark posso dirvi che su entuto abbiamo fatto circa 20.000 conto 35.000 quindi un passo in avanti anche come prestazioni su entuto che vale fino a un certo punto questo punteggio come giochi quando li ho provati però mi ricordo l'anno scorso lo girano tutti anche qua con dettagli bassi discretamente non fa miracoli però anche questo va bene per l'utente medio che gioca ogni tanto questo qua è un po' più prestante quindi ha più memoria più ram quindi fa girare i giochi leggermente meglio però anche qua per l'utente occasionale che gioca occasionalmente non ci saranno grosse differenze andiamo sui browser di serie qua siamo già sul corriere della sera qua vabbè non l'avevo ancora utilizzato anche se a volte Huawei anche se faccio già il procedimento mi fa ricominciare perché qua mi è capitato l'avevo già usato eppure mi aveva richiesto il corriere della sera qua non ho la sim mi sono connesso in wifi mentre qua mi sono connesso in 4G qua siamo con il browser di serie ecco la luce di nuova partita vabbè ce la teniamo così per finire il video finisce con la luce spenta mi spiace alzo un po' questa ecco già al massimo ok quindi ce la teniamo così mettiamo in vista desktop no simpatico non c'era il volo quindi andiamo sulla repubblica qua dovremmo già essere in desktop qua adesso lo metto manualmente da sotto versione classica ok ok qua ha finito di caricare praticamente tanto adesso mi fa sicuramente il refresh ok classico aspettiamo lo fa anche qua adesso come vedete la fluidità è buona però ripeto questi sono telefoni comunque nuovi appena ci avviati da poco da pochi giorni quindi è ovvio che girino questo da un giorno questo qua da un paio di giorni è ovvio che girino bene con un po' di utilizzo avventerà un po' però per un utente medio non ci saranno mai problemi per quella che è insomma la mia esperienza mobile ok dai usciamo parliamo della batteria 3000 mAh su entrambi il G8 il G7 mi aveva stupito l'anno scorso ovviamente in modo positivo assurdo aveva fatto 7 ore di display non mi ricordo quanto ma tantissimo portandomi a a mezzanotte abbondante con un utilizzo medio intenso questo qua con lo stesso utilizzo quest'anno non mi ha portato a più della delle 9 di sera quindi insomma buona anche questo G8 ma non paragonabile al G7 quindi batteria eccellente sul G7 e buona sul G8 cos'altro dire allora prezzi questo qua ormai si trova a 220 euro molto facilmente anche sui 200 questo qua si trova nuovo a 400 euro in negozio e sui 300 e qualcosa online quindi ci sono più di 100 euro di differenza allora come rapporto qualità prezzo sono molto buoni entrambi diciamo che per l'utente medio che non ha grossissime esigenze da telefono ma vuole un telefono costruito bene che vada bene e faccia tutto alla fine consiglio ancora Huawei G7 alla fine del design avete visto che è lo stesso l'interfaccia è similissima le foto sono quelle la batteria dura addirittura di più 4G c'è quindi ok super telefono ha un ottimo rapporto qualità prezzo tuttora gli dai un 8 come rapporto qualità prezzo questo gli do un 7,5 invece sui 350 euro ecco mentre per l'utente un po' più esigente o che comunque vuole più memoria interna vuole più RAM comunque gli piace la scheda tecnica vuole un display comunque di una nuova generazione diciamoci questo è un display ormai di due anni fa questo è un display comunque più attuale e la fotocamera arriva bene in una media e vuole ripeto la possibilità di dual sim e un telefono costruito bene e più nuovo che verrà ragionato quindi di più allora consiglio questo G8 aspettando magari che oh luce è ripartita che scenda un pochettino di prezzo tempo ovviamente qualche settimana quindi per questo confronto è tutto se avete domande particolari fatemene qua sotto nei commenti mi raccomando lasciate tanti bei pollicioni su al video noi ci vediamo nei prossimi video un saluto da Lorenzo per l'esperienza mobile ciao 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 ciao